Il maresciallo maggiore Giuseppe D'Agostino è il nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Capaccio Scalo. Il sotto ufficiale, tra i più esperti attualmente in servizio presso il NAS di Salerno, tra pochi giorni assumerà il nuovo incarico nella città dei Templi, subentrando così al tenente Serafino Palumbo, passato lo scorso gennaio alla guida della sezione operativa della Compagnia dell'Arma di Vallo della Lucania, che ha ottenuto risultanti brillanti guadagnandosi la stima di tutta la comunità capaccese per la quale è stato un punto di riferimento. Nel corso di questi mesi il comando della stazione dei carabinieri di Capaccio Scalo è stato temporaneamente assunto dal maresciallo capo Valentino Romano, con il coordinamento della Compagnia di Agropoli guidata dal capitano Francesco Manna. Grazie a tutti. Grazie a tutti